pavoletti cercano di sgambarlo lo sgambano ma lui tira ed era per un attimo quella palla era dentro è ok è gol è gol è gol è gol è gol ma hai fatto posso dire che hai fatto un signor gol grazie grazie dobbiamo fare tutte le partite c'è la prima di campionato oggi ecco qui porchè come procedono i preparativi del suo debutto con la squadra a cagliari ma benissimo benissimo allora ci stiamo impegnando tutti i giorni oppure i ragazzi devono solo pensare a vincere o abbiamo parecchi giocatori di qualità in rosa questa è la giusta risposta secondo me giri che tu che cosa ne dici io dico che è quella perfetta ed è vera anche eh è certo abbiamo i migliori quello che abbiamo speso sarà una stagione interessante sì porchè du puoi dirlo forte la promozione è un sogno per la squadra a cagliari è più di un sogno è una realtà è una realtà noi ce la prenderemo possiamo puntare alla promozione sì ne puntiamo alla grande noi alla promozione siamo determinati perché noi ce l'abbiamo già la promozione già nelle nostre manine l'acquisto di barrella ha messo a disposizione un top player cosa pensa che ci dobbiamo aspettare dal suo debutto grandi cose saprà dimostrarsi farà bene saprà dimostrarsi all'altezza e siamo prosperosi qui con barrella sì grande giocatore grande barre grazie chiuderei qui con le domande grazie grazie adesso andiamo tutti a mangiare il porcedone e a bere filo e ferro adesso giochiamo la partita va bene vai contro il lecce il lecce l'avevamo già surclassato l'altra volta però questa volta dobbiamo dare ancora meglio eh anche doppiamente più forte allora io ma non mi ricordo di nuovo i tasti perché li imparo poi me li dimentico poi insomma uno ha anche paura di giocare da solo vabbè le mani muscolari te ne devi ricordare per forza qua magari giochi da solo ti si cancella tutto il salvataggio uno ci rimane male è meglio di no ah vedo che qui stavo già preparando i miei i miei migliori giocatori lì stavo dicendo forza vi schiavizzo andate bene ma no aspetta questo è genua non è lecce ah è diverso vabbè noi li sussiamo ugualmente esattamente senza paura pure ce ne frega nulla ah ecco qui ma io quale sono questo bianco gioco in trasferta questa volta quindi vince anche a casa loro vinco a casa loro allora sul davanti sul davanti però dovete spostarvi perché altrimenti qua succhiamo dai in punta devi andare eh devi fare dei gol già da subito ah mi hanno spallato il pallone aspetta che attenzione mi raccomando con i palli ho fatto i palli eh no raga però mi è cambiato qualcosa no 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 come no tranquillo tranquillo va bene va bene va bene ho dato sono entrato un po' severamente no vengo oh ma cosa è successo ma sono molto più forti di prima qui eh oh no sono decisamente sono decisamente non lo so mi sembrava uguale a prima no 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 boys and girls mi sa che c'è la difficoltà più alta davvero subentro 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 sto subentrando al meglio delle mie possibilità eh vai 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 non posso essere troppo forti ok ok aspetta aspetta passaggio passa passala passala no 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 passala ancora pavoletti ti fai questa maniera ma cosa fai è una partita un po' più combattuta ragazzi ma non dobbiamo non dobbiamo dai vai cagliari Strei è così però cioè no Strei ha fatto cagaradosso tutti i giocatori no 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 ricordati degli insetti Strei no qua ci prendiamo no ci hanno fatto gol raga è terribile no oh mio dio no 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 raga no Jerry cos'è successo cos'è successo non so se la difficoltà si è aumentata il bonus perché loro giocano in casa adesso ti imprendi è solo 1 a 0 dell'inizio della partita ancora si può recuperare e vince ok questa cosa non so se sia vera comunque ma anche io ne ho dubbi ma poi vedo anche cioè mi è cambiato qualcosa non non sono contento no ma ci deve aspetta perché comunque se premi RT corri molto più veloce con i tuoi giocatori ok grazie vabbè dai allora senza paura è cambiato dai io sei stato hackerato come dicevo io no no io qua mi impegnati impegnati questi mi scavalcano no non pensare così no no bro bro qua qua mi sta mi stanno crepando di brutto è finita è finita non lo so non lo so non cedo non cedo credi solo che è cambiato ma in verità non è cambiato nel tuo cervello tu devi devi dare di più dai di più sto dando del mio meglio sto dando il mio massimo ok ci ho messi 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 ok aspetta NANDEZ passetti no e ci hanno fregato no di di mamma donna mio dio no dici però ce l'abbiamo di nuovo noi ce l'abbiamo di nuovo noi ce l'abbiamo di nuovo noi e niente abbiamo preso pure la banana che cosa è successo ma cosa mi è gioco no ma pure ma cos'è ma no ragazzi è rotto tutto perché mi fa mi ha fatto un tutorial così cosa ha visto che faccio cacare no 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 dai ti prendi in giro no no adesso 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 ci riprendiamo no no tranquilli non panicare non panicare stai panicando no però l'altra volta più fa Geric ma qual è R cioè R3 è la levetta eh sì è quella lì a sinistra quella è a destra ok ma la levetta o te lo dice anche il gioco quando si guarda RT ok ho capito ho capito grazie ho capito tutto sto cercando di fare del mio meglio eh sto cercando di non prendere troppo cazzo ok ok ci sto di nuovo eh ci sto di nuovo sì sì è questo il correre veloce qualche volta lo facevo ok 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 adesso ce la fai riprendi ok passo indietro sei molto più veloce dei tuoi avversari passo passo chi la piglia piglia te vai zappa no zappa che c***o ti fai no zappa 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 perché c'è i tulli no questo doveva andare a zappare no Alex Alex mi disso non lo so Alex stai zitto chiedi scusa chiedo scusa sei proprio un caffone guarda veramente sempre lui ma sempre lui eh ma cosa è successo finito il primo tempo eh sì è già finito mamma mia vai tutto il secondo tempo almeno un 2 a 1 ce lo portiamo a casa non ne sono determinato no bro dai su su con l'umore poi ti sentono che sei giù non glielo trasmetti hai ragione eh dai devi crederci di più però anche tu non prendermi per scemo perché se no ok ce l'ho so Pavoletti 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 cercano di sgambarlo lo sgambano ma lui tira per un attimo quella palla era dentro eh no è dentro è dentro è dentro è gol è gol è gol è gol è gol ma hai fatto posso dire che hai fatto un signor gol grazie 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 ci dovevi credere era bisognoso c'era bisognoso adesso adesso tiriamone a casa un altro però non rallentiamo vai no contrasto un contrasto onesto e Pavoletti vuole portare a casa un altro gol vai Pavoletti la parata la parata però non vedi che ti sei già ripreso sì sì il secondo tempo già uno a uno da bene visto visto ok allora proviamo a tirarcela un sì e poi la parata lo stesso e niente abbiamo fatto un po di schifo però eh però può essere che ci da un altro calcio di punizione no calcio d'angolo per favore ci hanno fatto un fallo loro non è vero ok riprovo eh riprovo con grande con grande speranza devi fare una buona mossa passiamola però sta palla passiamola che c'è la c***o così ok no è fallo dai 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 per loro per noi per noi per noi per noi per noi ma anche tu però dicia da alec se poi anche tu non ti trattieni eh ok ok cosa c'è dai però adesso non ho fatto niente non ho fatto niente ma questa me la ripiglio io e ce l'ha messi e dai eh ma qui non c'è nessuno però più avanti così eh no mi cazzicano mi cazzicano sono caduti tutti in mezzo evitare la passo ce l'ha messi vai messi vai messi vai messi tirala no chi me la tocca non corrono non corrono beh forse abbiamo sbagliato qualcosa nella formazione della squadra può essere ma c'è uno che si chiama ciz borra dai però che ci fate perdere i minuti su 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 qua dobbiamo provare a fare un gol eh se no dobbiamo tentare un po il tutto per tutto qui messi di nuovo c'è un po deve correre in avanti ah la parada ma questo portiere no ma il genoa è fortissimo però eh il genoa è veramente oh e me l'hanno pure presa mi hanno fatto cadere questa è un fallo bruttissimo uh mokumo entra no dai dai passa la passa la passa benzema tirala ma che porcaccia la porcaccia non c'è verso eh siamo su un miserabile no e sarò io eh sarò io non c'è dubbio però la passo la no 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 non va bene non va bene posso dire però che la volta scorsa erano più scarsi di brutto molto più scarsi non capisco perché se la difficoltà è la stessa cosa è successo passiamola passiamola pavoletti no pavoletti te la fai come incredibilmente proprio mamma mia eccolo eccolo pavoletti di nuovo si porta no e si fa frega ce l'ha io ce l'ho io ce l'ho io dai 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 pavoletti ancora no era troppo moscio sto calcio era proprio moscio era proprio moscio non aveva proprio forza fortiere l'ha tirata fuori da solo dai questi fanno le sostituzioni per farci perdere tempo però eh infatti vogliono andare ai rigori questi qua pavoletti smettila di prendere sempre tu la palla però pavoletti due gol almeno egoista di sicuro ok aspetta 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 un gol guarda che basta un gol adesso diciamo un gol è tutto ciò che ci serve tutto ciò che ci serve non so se ci riesco eh my friend si che ce lo puoi fare non ti preoccupare vai no è sicuramente colpa mia non lo metto in dubbio ma no vabbè dai perlacatelo fermate questi pazzi dai fate qualcosa dai non si riesce ci è andato tre minuti è pareggio vabbè non vabbè no 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 dai meglio della perdita no 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 come no no buonanotte e lion out non vabbè